ok la live l'ho riavviata ma questo più G proviamo di nuovo qua vediamo un attimino se ci arriva così riavviamo il gioco ragazzi lo so che voi vedete tutti i messaggi però ho detto riavviva la live come se si fosse buggato tutto così e non ci vedo che fa così un attimo su whatsapp dovete Grazie a tutti 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 Oh Grazie a tutti 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 Ma tu Non esiste Grazie a tutti 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 Buono Grazie a tutti Grazie a tutti Buongior Grazie a tutti Buongiorno Buongiorno No Buongiorno 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 non so, un messaggio milanese ui vuoi venire? chiamo a fare questo ok andiamo non so, non so, un messaggio non so, un messaggio non so, non so, non so non so, non so non so, non so, non so ho fatto messo la sfida punti ho fatto messo la sfida punti quanti punti hai messo, ma non so non so perché a me non me lo dice, non so adesso la vendero a me la modalità cooperativa, si ma la nuova la nuova no, consigliatemi, consigliatemi non so, non so, non so non so, non so, non so ma tu la sto parturato ma tu la sto parturato la sto parturato la hai rifuttato non so ma che sta magari che non mi piace ma bu però tu qua dei full kit e tembino hanno doppio po' non ti è capitato la deloria ne ha ci pagato uno come leone 143mila ci ci miso full kit il kit e tembino ha speso 150mila ma anche pure sai la deloria non mi piace 250mila cioè è saluto quasi 75mila quasi 80mila euro in giù e non mi piace e non mi piace e non mi piace e non mi piace e fai prima che tu quando fai la ricerca metti già la macchina che ti serve e fai la tua coppia, sia forte eeeh che ci fai ma infatti ma la tecca capi canta io non mi piace e nei fai paolo non mi piace che facile il panzerot ma non si fanno passare Sì, non è vero. scoglio ora oltre dalasso Grazie a tutti. 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 Oh, ti ho chiamato solo un attimo così, che mi ha visto bene. Ti sentiamo nettamente domani, non fa niente. No, non fa niente. Non ho capire, ma non fa niente. No, 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 non fa niente. Ma che fai niente. No, non fa niente. No, non fa niente. No, non fa niente. Bili bibi bibi o 3 5 6 5 6 5 6 6 7 Non è da posto, ma non c'è l'installazione. C'è avvenuto lì, questo. Questo che ha fatto. Come un'altra, ma passa lì. non sono mancato i cento, vabbè eh, è vero, quel cazzo perchè si passa da qua? i riappolgimenti in gusto sono fermati perchè si è fermati? si era bloccato i riappolgimenti vabbè manga pagani raggi per riva basta di riappolgimenti ok Sì No, c'è Gesù Cristo, sto joystick Ok, ma mi chiamano il cazzo Combatti adesso Sì 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 Allora, non? Allora, non? Non c'è che cazzo, non c'è? Chacere, non c'è? Non c'è? C'è che cazzo, non c'è? Il sì! Eeeh, che tale va nanzi però, va giù, è già. Eeeh, che tale va a raccogliare, va giù, è giù, è giù. Ma tu non ti non so, va bene, tu va bene, quindi non ti non so, va bene. Eeeh, che cosa? E' un po' lato addosso E' due E' tre E' un po' lato C'è una roba, vieni, vieni E' un po' lato Ma la roba, e' un po' lato Non fa niente che arriva a più Un po' lato Non c'è un po' lato che l'ho fatto Ma lo fottro proprio, ma hai rischiato E' un po' lato Non me lo fottro proprio, c'è arrivato 6, non me ne interessa proprio E' un po' lato che l'hanno rischiato non hai messa la sfida punti ma qui non hai capito sto fatto la sfida punti aaaah giochiamo insieme ok ho capito marco ho capito quale sfida che cazzo sfidevi oh l'ho capito marco non avevo capito il cazzo che stavi a riferire un attimino dopo quazzo che dico mi ha regalato una porsche allora per l'altro adesso adesso ma che per l'attimigato questa è la caricata che deve prima non la potessi caricare perché qualcuno mi sa buono e mi sa buono ma che per l'attimigato sono di nuovo qui ci sono operativissimamente brutto questa cosa super 7 batti era di 7 carte sfida ma che è mi abberi ah no pensava non è che per l'attimigato non è che per l'attimigato non è che per l'attimigato questo tipo che è una noturosa Tony che cosa è Sì Turn around When it is safe to do so I am sorry I am sorry He is a good one I am sorry 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 turn around or if you hate to do so round one complete get to round two there's the skill off you go and take it ma non è divertente quasi ma pure parecchi punti in 200m turn left turn left that's on the road somewhere in 400m turn right that's all 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 turn right no 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 è in realtà non ci hai dubbio faccio il metodo faccio il metodo Ok, un guapo Ok, un guapo Maggi l'ha allenato un po' di crisi Maggi, l'ha allenato un po' di crisi Ah sì, questa cosa non mi piace Che palla Perché si è attivata che è stata così Ok, un guapo La stai ci va a cambianata, andaci capiti Che già fa? Boh, blocca al aeroporto.rus Mi cazzo è molto un po' Whatsapp qua Eh quindi che do fa? Saluta a mele Oh nia Non perché avevamo fatto la pata qua forse Boh E' un eserci Fai, non ci sto capendo niente E' un esercizio E' un esercizio Ah sì, devi fendere la pata Non c'è la rete per qua Vado a una rete E' un esercizio 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 Turn around when it is safe to do so. In 400 meters, turn left. In 400 meters, turn sharp right. Oh, that's what I'm going to do. Oh, that's what I'm going to do. Allora, non devo... Allora, ma fa sette gare qua, fratello. Allora, la prima è questa. Vediamo che non si bug, che ci regalano al padre, che ci regalano in macchina, caù. Ok. Oh, la macchina che mi ha giocato, è giro il gioco. Ma stai con me o è da solo? Non ci capisco. Boh, caglia qua, non so, boh. Oh, caglia qua, non so, boh. Oh, ciao. Eh, la fa da solo, fratello. Pure tu. Ma boh, fattile. Ma pure tu. Vinci il mare. Eh, pure sto da solo. Eh boh, fattile, vinci il mare. Vinci il mare. Vinci il mare. Vinci il mare. Ma che cazzo c'è lo tutto qua qua. Ok. Ah, allora posso sbloccarmi la... GOOOOOOOL. Sfida completata. Sfida è una. La foto è una. Fatta, fatta. La vi maggio fatta pure io. Vota. Ok. Mi è piaciuto Francesca e la risposta che hai dato, sai? Ah, il cittadino è male i capi. Mi dispiace. Mi è piaciuto bene, mi è piaciuto messaggio e a lui ci stigurata mentre riparo. Boh. Va bene. Allora, questa qua l'abbiamo fatta. Sei conto? Vi faccio il macicolo. Dimmi che ce l'ho. Non so se lo so. Se potessi farlo, però. Ah si. Vai. Ho portato un paio oggi. A posto. Proviamo, proviamo. Proviamo per credere. Spacchiamo tutta Ciccio. No. Dai, dai, dai. Veloce. Mi ha inteso di Ciccio arrivare nel match per la guardia romanzo. Io sto facendo già. E faccio tutto questo Ciccio. Spacchiamo tutto qua. Spida completata. Vai. Ragazzi, è una cagata, frate. Fare tutto quanto. Che faccio tutto quanto, frate? È una stronzata, frate. Subito e poi. Da taramba. come se la posto è? A seconda che la capo ci è? Nooo, mi dissocio. Challenge two down. Come è andato? Come è andato? fa ma no perché curva stretta e legge vattaro maggi volato a quella non fiume l'ho capito qual è mi hanno detto mi hanno 3 ucci per cario ma non c'è nessuno 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 è kidding No, 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 no. No, non si sova. No, non si sova. No, non si sova. Sì, sì, sì. mh 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 per te lo so anche di un po' ah non è nascosto qua la neve no vabbè no se lo fa forza io lo posso sicuramente raga si raga infatti si saluta samuele ciccio ciao vabbè guardate io non ci ho fatto il corpo ma nascita eh no ma che bene vabbè 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 ma che cazzo di macchina qua stai giungendo il vecchio no 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 vabbè 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 esibizione vabbè vabbè esibizione 73 su 84 cshh vabbè 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 ok ok ma la fin dei codici dalle ulti appoglia non Oh Sì 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 ricorda quello che dicono sui giochi di tavola? l'uomo sempre vince se non è l'horizon C per 7 allora tutti vince no, perchè ha già venuto tutto il racconto? ha già venuto perchè ha già venuto tutto il racconto? ma che dei personaggi? non sapevo se sbloccavo la scuola perchè ti ho fatto spettacolo dai ci chiamate in dei parchi ci hai tagliato tutta lì ma facciamo così faremo così tante gare adesso sennò poco non vengo sul pc a provare e che ti faccio riprendere tutti i soldi che hai perso ah nel frattempo io sto sbloccando ancora roba che c'era staccato tipo alle 8 del mattino e ho giocato fino alle 8 sulla rai e sto andando ho fatto un bordello di gare ho fatto un'altra roba ho fatto un'altra macchina una che non la trovo c'è ancora sulla mappa non so dove cazzo sia non so dove cazzo sia ok tra poco vanno pure un milanese frate insomma puoi fare la sfida con la visuale all'interno bello oh dici che ieri è fatto a ieri ha mai fatto una poca a ieri e stanotte non è una poca non pare una poi dici che hai giocato fino a stamattina all'8 eh? hai capito milanese che combina? dici che hai giocato dici che hai giocato da ieri e s... vabbè gioca, gioca tranquillo faccio un attimo girare la ruota si vai oh ho ciao bello no cazzo ma hai giocato ciao bheh bheh vabbò nè si è un mostro vabbè vabbè sfida è merda ma dà dai vi suoi all'interno non riesce a avere l'interno non riesce a terra turn right 100 m turn sharp left turn sharp left turn around E' un'altra parte, è un'altra parte. Grazie a tutti. 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 Valore del... Grazie a tutti. 3 milioni... 707. 707. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Samu... Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. questa... la... la marca... la... 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 ci stiamo mettendo a panna vai sul rotondo la di ORIGION si si sto bene ok non giurimi da macchina non ci stiamo non ci stiamo non ci stiamo è stato da bovere ah non ci stiamo Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.